Unicredit punta sui giovani e di fronte a 2400 uscite incentivate crea lavoro per oltre 1500 nuovi bancari. Lo ha confermato l'amministratore delegato del gruppo Federico Ghizzoni a margine di un convegno a Torino. Assume 800 colleghi giovani nuovi e converte 700 contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Quindi in totale sono 1500 giovani. Credo che sia una bella notizia per noi perché a noi giovani fanno veramente comodo. Svecchiano, sono più efficaci nell'uso delle nuove tecnologie e penso e spero che sia una buona notizia per il paese. Nel capologo piemontese di fronte a oltre 5000 dipendenti Unicredit ha presentato il nuovo modello di servizio del gruppo operativo. Dal 3 novembre 2014 è focalizzato su una maggiore apertura verso la clientela seguendo il claim la banca e del cliente. Gabriele Piccini, Country Manager Italia dell'Istituto. La banca del cliente è una banca dove è il cliente che sceglie come entrare in banca. Può entrare in agenzia, può entrare con l'online, può entrare con l'on-buy, può entrare come vuole. E quindi la banca deve creare un network multicanale perfettamente integrato che dà la possibilità al cliente di poter entrare quando vuole. È una banca che fa i prodotti che vuole il cliente, è una banca che mette i modelli di servizio a disposizione del cliente in modo tale che il cliente possa sceglierli. Tra le novità anche la vendita di beni e servizi complementari come smartphone e prodotti high tech e soprattutto la società di intermediazione immobiliare Subito Casa. L'Istituto infine realizzerà 1200 agenzie flessibili e renderà le filiali più accoglienti e moderne entro il 2016. Vi presento un grande uomo, il capitano, l'unico capitano, Savier Zanetti. Ospite d'onore alla convention torinese, l'ex capitano dell'Inter Savier Zanetti in veste di testimonial ha regalato ai manager di Unicredit una maglia nerazzura personalizzata e a Ghizzoni la fascia di capitano.